Tempo di elezioni regionali, tempo di rinnovare il Consiglio regionale del Piemonte e noi abbiamo qua nei nostri studi Diego Sarno del Partito Democratico, ben trovato. Buongiorno. Senta, con lei intanto vogliamo fare un po' il quadro della situazione a livello politico e qual è il sentore per queste elezioni, per questa data fatidica del 26 maggio. Questa elezione ha una caratteristica sicuramente anche nazionale ed europea, vista la concomitanza con le elezioni europee. Scegliere una coalizione, una forza politica capace di raccontare una dimensione culturale diversa da quella che oggi va per la maggiore vuol dire rimettere al centro i temi sociali, temi di allargamento delle dimensioni culturali e territoriali. Quindi oggi sicuramente la sfida è importante e dobbiamo avere la capacità di, con questo voto, dimostrare quanto chi sta governando alcuni pezzi istituzionali del nostro Paese, non solo ovviamente a livello nazionale ma anche europeo, stia completamente sbagliando. E quindi la sfida è difficile, ma oggi grazie soprattutto a un Partito Democratico rinnovato abbiamo e avremo sicuramente la forza di garantire un programma e un futuro della Regione Piemonte capace di essere un elemento di resistenza rispetto a quello che capita a livello nazionale. Quindi mettere un tassello in mezzo al governo nazionale e in particolare alla città di Torino crediamo che sia fondamentale ed è per quello che una cultura che allarghi lo scenario culturale politico quindi quella rappresentata dal Partito Democratico rinnovato sia fondamentale e su questo ci stiamo battendo in questa campagna elettorale. e quindi avere in particolare un concetto culturale che parli di un'Europa e di un'Europa che stia dentro ad un contesto territoriale largo e il Piemonte sicuramente è una dimensione territoriale importante per affermare questo principio. Senta, il Piemonte, leggeo dei dati, è la penultima regione per l'assegnazione di beni confiscati alle mafie. Allora, ne volevo parlare con lei di questa considerazione tanto più che il tema della legalità è uno dei suoi cavalli di battaglia. Io sì, arrivo prima di fare l'assessore a Nichelino, arrivo dal mondo di Libera, l'associazione nata nel 1995 da Don Luigi Ciotti, ho militato e continuo sostanzialmente a essere vicino a quella realtà culturale e associativa. Questo è un dato drammatico per noi come piemontesi. I beni confiscati sono un grande strumento anche di riscatto sociale e di sviluppo economico. Dobbiamo rialzare la testa e dobbiamo riaffermare quanto quei beni confiscati siano simbolicamente importanti perché lì un bene confiscato alla mafia, in particolare a Torino e provincia, all'Andrangheta, è un simbolo di riscatto perché lì le mafie hanno perso e non hanno vinto. Come fare? Sicuramente la regione in questi cinque anni ha messo dei fondi, tant'è che il mio comune, il comune di Nichelino, ha vinto due bandi per rimettere mano a un bene confiscato proprio nella nostra città. E allora bisogna aumentare e costruire proprio un coordinamento. Cioè la regione si faccia promotrice e capofila rispetto alla assegnazione verso i comuni perché poi sono i comuni che devono richiederne la proprietà. Come fare? Mettendo in testa come capofila la regione, mettendo le risorse. Perché molti beni confiscati molto importanti hanno un problema di ripristino della vita all'interno perché l'Andrangheta andandosene da quei beni li distrugge, li devasta. Allora gli enti locali hanno difficoltà economiche da questo punto di vista. La regione nei prossimi cinque anni aumenterà sicuramente questo stile di lavoro e quindi l'obiettivo è quello di mettere risorse maggiori ed essere capofila per agevolare l'assegnazione ai comuni perché quei beni confiscati davvero sedati poi in mano a cooperative, ad associazioni o a enti istituzionali possono anche produrre del lavoro e produrre nuovo sviluppo economico sano e non illegale come lo erano in precedenza. Immagino che il tema della legalità è uno dei suoi punti focali di quello che può essere un programma elettorale ci può citare anche qualche altro punto che vorrà portare all'attenzione dei piemontesi anche magari alla luce della sua esperienza precedente delle sue esperienze precedenti. C'è un tema dove la regione ha una competenza anche diretta e cioè il recupero delle aree dismesse. Noi in questi anni abbiamo visto quanto il Piemonte sia purtroppo una regione dove molte aziende hanno chiuso dove molte grandi aziende hanno chiuso e quindi noi abbiamo un problema di luoghi abbandonati. Su questo a Nichelino abbiamo ottenuto una grande vittoria un'area industriale di 260 mila metri quadri l'area Viberti che costruiva mezzi pesanti e pullman anche che viaggiavano nelle nostre città quell'area è stata abbandonata per dieci anni perché era in procinto di fallimento ha arrivato una proposta per costruire un centro commerciale noi abbiamo già due centri commerciali in nostra città importanti a distanza tra l'altro da quel sito a 500 metri in linea d'aria da uno a un chilometro dall'altro noi ci siamo opposti perché pensavamo che quell'area potesse avere un altro sviluppo opponendoci facendo anche una battaglia legale da questo punto di vista in parte, in gran parte vinta è arrivata poi una proposta di un'azienda che fa logistica che si occupa del comparto della logistica e del trasporto della Zust Ambrosetti che ha comprato l'aria proprio perché ha visto la resistenza da parte del comune nel voler fare altro ecco, la regione Piemonte nei prossimi 5 anni questo tema lo deve mettere a fuoco ci deve puntare un occhio di bue come se fossimo a teatro e su questo dobbiamo fare una grande operazione amministrativa e cioè provare anche attraverso fondi europei a mettere dei fondi per aiutare il recupero di quelle aree in particolare sul tema della bonifica perché poi il grande tema di queste aree di smesse e ovviamente abbandonate sono le bonifiche delle stesse aree che hanno dei costi importanti la regione potrebbe mettere un fondo specifico su questo progetto e su queste aree perché queste aree ritornino a costruire politiche imprenditoriali e lavorative e perché no politiche innovative e politiche culturali capaci di attrarre nuove aziende e produrre nuovi posti di lavoro cioè quelle aree non devono essere aree abbandonate ma essere aree valorizzate coerentemente al produrre lavoro non soltanto le aree di smesse ma anche la cultura, gli eventi collaterali vogliono un loro spazio da questo punto di vista cosa ci può dire? Ma io in particolare come esperienza anche personale che cercherò di trasferire una volta speriamo eletto in Consiglio regionale da Assessore alla Cultura abbiamo sviluppato due grandi progetti il primo sul nostro teatro cittadino costruendo non la gestione solo del teatro ma costruendo un sistema cultura nichelino che ha tirato nuove risorse che ha riscattato il teatro superga di Nichelino ogni anno il teatro superga ha una media negli ultimi 4 anni di 2500 spettatori ma gli utili che producono quel teatro vengono riposizionati nella quotidianità le faccio un esempio anche simpatico nella nostra città se va a comprare in un supermercato o anche in un centro commerciale si vede spuntare un musicista che suona di fianco al banco della verdura perché abbiamo detto che dobbiamo portare la cultura nei luoghi quotidiani di vita e questo è un tema che vorrò approfondire in ambito culturale regionale dove il sistema rete è un sistema fondamentale che è stato fatto ma anche su questo abbiamo grandi occasioni l'altro tema è il tema dei grandi eventi Torino purtroppo nonostante gli ATP Finals portati a casa ha avuto un grande declino da questo punto di vista noi a Nichelino con la palazzina di Caccia di Stupinigi abbiamo portato un festival internazionale lo Stupinigi Sonic Park grazie anche al contributo della regione cioè abbiamo del patrimonio straordinario facciamolo vivere e portiamo lì degli eventi internazionali che producono lavoro e indotto su questo la regione ha una competenza diretta e avremo modo di lavorare nei prossimi cinque anni va bene allora io ringrazio per essere stato qui con noi il candidato alle regionali Diego Sarno del Partito Democratico grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi